andiamo a togliere la plastica ed eccola qua ragazzi guardate qui che spettacolo di macchina anche qui sotto guardate qui bellissima la parte di sotto qui c'è la parte del posteriore qui c'è un po' di motore bellissimo uno spettacolo unico guardate qui tutti i visiti sponsor qui sotto numero 11 un'autovettura di tutto rispetto davvero strepitosa adesso la vado a rimettere sulla sua base espositiva ci vediamo tra poco ed eccola qua sulla sua base espositiva la 312 T2 di Nikilauda in tutto il suo splendore guardate qui che meraviglia ragazzi bellissima auto poi le macchine d'epoca hanno un loro fascino andiamo a rimettere nella sua teca e adesso vado a prendere il raccoglitore di fascicoli e ci vediamo tra poco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti